Ciao a tutti, io mi chiamo Ciro Spadaro, lavoro da 30 anni al comune di Palermo, da 5 anni lavoro in un servizio che si chiama innovazione tecnologica e specificatamente mi sono occupato quasi quotidianamente di dati. In alto vedete un logo, Open Data Sicilia, oltre ad essere un dipendente comunale sono un membro di una community informale, non è un'associazione che non ha stato suggerito, è una community che si riunisce in diverse occasioni per veicolare la cultura dei dati in formato aperto, in formato accessibile. E questa presentazione, questo che oggi vi racconterò, è un'esperienza personale in qualità di dipendente dell'amministrazione comunale ma nello stesso tempo di membro di una community, diciamo, di persone come tutti noi. Due minuti, mi racconto una storia vissuta a Palermo. La favoletta dell'open data al comune di Palermo è nata con sette persone che si sono incontrati per caso in un open data day, c'è a livello mondiale a febbraio una giornata che tutte le città possono partecipare. Ci siamo incontrati e in quell'occasione, era cinque anni fa, io nemmeno sapevo cosa era l'open data day, però incuriositi un po' di persone all'interno dell'amministrazione comunale, il webmaster, e assieme ad altri cittadini che erano più informati di noi a Palermo sugli open data, ci siamo incontrati. Da quell'incontro del 2013 è nata la volontà di scrivere delle linee guida, che mancavano al comune per pubblicare i dati in formato aperto, perché il comune pubblica o pdf, a volte frutto di scansione di carta, o pagina html. E i comuni, le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province, hanno una quantità di dati che chi non lavora nella pubblica amministrazione non riesce nemmeno ad immaginare. Cioè, chi non lavora in una pubblica amministrazione non vi immaginate le miniere di dati che ci sono nella pubblica amministrazione che possono essere utili a chiunque, a uno studente universitario, a un'azienda, a un'associazione, a chiunque, il riuso di questi dati. Lo vedremo in seguito che significa riusare i dati. Quindi nasce questa sorta di unione di intenti tra sette cittadini palmitani, ero l'unico dipendente comunale, cittadino e dipendente comunale, e produciamo in circa 6-7 mesi queste linee guida, le mandiamo con un'email all'assessore Catania, era assessore alla partecipazione, lui, sensibile sull'argomento, porta questo file stampato in giunta, assieme agli assessori approvano una delibera che adotta le linee guida open data per il comune di Palermo. Quelle linee guida sono le regole che il comune si dà per generare e pubblicare open data. Quindi dati, dataset in formato aperto. Ora andiamo a vedere cosa sono questi dataset. Quindi notate questo processo di partecipazione, comunità, interno, comune, e si arriva a un obiettivo. I dati, come li possiamo vedere, come li possiamo ottenere, visualizzare? Tim Berners-Lee ha dato questa semplicissima classificazione delle 5 stelle, partendo dalla prima stella e arrivare alla quinta stella. Il PDF lo conosciamo tutti. L'XLS e l'Exceler lo conosciamo tutti. Il CSV, comma separated value, valori separati da virgole. Ora li vediamo, c'è una slide per ognuno di questi. RDF e l'OD che sta per LinkedIn open data. Questi sono, questa è la classificazione dei dataset nel pianeta Terra. Che tutte le pubbliche amministrazioni del pianeta Terra, diciamo, devono adottare. Ma quale devono adottare? Perché il Comune di Palermo pubblica tanti PDF. Ok, ma siccome gli open data, i dati, devono essere riusabili da software, in gergo anglosassone si dice machine readable, quindi leggibile da una macchina. Che legge un software da un PDF? Soprattutto se scansione di carta, perché oggi la pubblica amministrazione ancora non ha avviato tutti quei processi che, quando il presidente di LibreOffice diceva del codice dell'amministrazione digitale, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni devono passare dalla carta al file. Ma se voi andate nei siti web delle comuni, regioni, troverete PDF in formato accessibile, quindi PDF dove poi potete selezionare un rigo, copiare e ve lo incollate in un formato, in un editor di testo vostro. Ma troverete un casino di PDF che è scansione di carta. E ce n'è tanti. E questo succede perché ancora molte pubbliche amministrazioni non hanno adottato gestionali, sistemi gestionali con i quali vanno a gestire tutto il ciclo di vita del documento informatico, dalla generazione alla pubblicazione online, o se è il caso della trasmissione al cittadino, se il cittadino ha richiesto un'autorizzazione o un qualsiasi documento. Quindi la mancanza di un software che mi permette di gestire tutto dalla nascita alla fine dell'informazione provoca questi effetti. La carta scansionata. Andiamo a vedere le caratteristiche sinteticamente dei vari... Quindi dividiamo tra i dataset da leggibili dall'uomo e leggibili dalla macchina. Il PDF. Allora, questa è una tabella. Classe. Proprietà. È qualcosa di obbligatorio o di opzionale. È una tabella. Ma un software che se ne fa di questa tabella in un formato PDF, cioè non ci riesce ad entrare là dentro a estrapolare questi dati, rigo per rigo, colonna per colonna, cella per cella. Quindi anche se è un formato accessibile, cioè ci arriviamo, attenzione, ma c'è lavoro e lavoro. E siccome la classificazione di Tim Berners-Lee prevede cinque livelli, questo è il primo, poi gli altri sono sempre più aperti, sono sempre più machine readable. Allora, visto che questo è il primo scalino, facciamo lo stare, cioè... Se dobbiamo pubblicare tabelle, come in questo caso, questa è una tabella, non è un testo, questa è una tabella. Se dobbiamo pubblicare la tabella, lasciamo stare il PDF, non ci pensiamo completamente, andiamo a pensare a formati tabellari, quantomeno. L'Excel, che è nelle pubbliche amministrazioni, ovviamente il presidente di LibreOffice salta sulla sedia, ma nelle pubbliche amministrazioni, noi abbiamo avuto tre anni fa una giornata di sensibilizzazione a LibreOffice alla Fonderia Oretea, abbiamo invitato tutti, cioè, chi è potuto venire, dipendenti comunali e dirigenti, e li abbiamo fatto vedere, capire, che... è un formato aperto, non proprietario, ed è un formato che spesso gli applicativi gestionali, software delle pubbliche amministrazioni utilizzano come funzione di export, cioè io ho, per esempio, al Comune di Palermo, il gestionale per gestire i dati del patrimonio immobiliare del Comune di Palermo, appartamento, via, numero civico, foglio, tastare, numero particella, condizione, area, allora, il gestionale permette al dipendente comune di andare a inserire, ad aggiornare i dati su quelle. Allora, l'applicativo gestionale ha una funzione di export che può essere attivata, e io ho tutti i dati in questo formato, in CSV, e quindi che cosa faccio? Mi faccio un export periodico, mensile, e pubblico gli open data del patrimonio immobiliare del Comune di Palermo in questo formato, e lo pubblico sul portale open data del Comune di Palermo. Chiunque lo può utilizzare, per esempio, in questo caso, ci sono anche latitudine e longitudine, quindi, chi si vuole divertire a fare una mappa, in questo caso, diciamo, è un altro dataset, ma noi abbiamo diversi dataset con latitudine e longitudine, quindi, un uso semplicissimo, facile, è appunto la creazione di mappe, vedere dove sono tutti gli immobili del Comune di Palermo, per esempio. Qua, andiamo ai piani alti dell'apertura dei formati di dataset. Questi sono i piani nobili, andiamo alla sintassi. Cioè, allora, se io devo, questa è l'informazione, io l'informazione, quella che, questa informazione che prima era, per esempio, qua, questo, Palazzo delle Aquile, e però, vedete, sito era scritto lassù, e sotto sito poi metto tutti i siti. guardate la differenza di sintassi. Io ogni volta che devo mettere il sito, devo scrivere, qua c'è scritto auto, dovrei scrivere sito, sito, quindi, questa sintassi vi fa notare come la struttura del dato è fortemente strutturata, è fortemente metadatata, cioè, per ogni informazione che io sto dando, per ogni singola informazione che là stava nelle celle, qua, la ingabbio dentro, dentro un sistema di, di, di metadatazione. È come se i metadati fossero dentro il dataset. Quando i metadati, diciamo, il metadato, cioè la descrizione di cosa contiene il dataset generalmente è una descrizione a parte, diciamo, separata dal dataset. Ma questo formato è molto utile, molto valido, quando bisogna andare a descrivere le caratteristiche di ogni singola informazione che io metto dentro. Qua posso fare... Ah, cos'è? Ah, ok. Non lo sapevo. Posso utilizzare urli, quindi, HTTP. Questo me lo posso linkare con un altro. E arriviamo a proposito di linkare, cioè di unire, di fare il merge, arriviamo ai 5 stelle, diciamo, dei dati. I famosi linked data. Qua la rappresentazione, qua mi ha aiutato il mio maestro di, diciamo, di Open Data. Gli ho chiesto, senti, devo fare una presentazione, devo parlare del quinto livello dei dataset, dei 5 stelle. dammi un'immagine che possa fare capire bene cosa sono i linked data. E da qua si capisce. Perché di ogni personaggio di questi io posso avere nome, cognome, data in nascita, perché è famoso, che ruolo ha. E ognuno di questi io me lo linko, me lo relaziono, perché ho utilizzato la stessa meditatazione per tutti. C'ho la description per tutti, c'ho l'autor per tutti. Ok? Qua vi ho messo poche, per non farvi confondere, è giusto per dare, diciamo, il senso della sintassi. Ma io questi me li posso unire, me li posso unire tutti perché c'ho i metadati di ognuno di questi. Quindi immaginate, questo è un dataset, Steve Jobs o Bob Dylan è un dataset e tutti sono dataset. Io me li vado a legare perché la struttura che li descrive è uguale. Quindi parlo lo stesso linguaggio, parlo la stessa lingua. Questo è il non plus ultra del mondo dei dati, soprattutto per la riusabilità. E proprio su questo quinto livello dei dati il 9-10 novembre la nostra community Open Data Sicilia organizza una a due giorni, la facciamo ogni anno, e quest'anno il tema è proprio sui link di Open Data. Il 9 saremo all'Ars dentro il cuore del Parlamento regionale, vi spiego perché, e il 10 saremo qua, a Cantiera della Zisa a fare un hackathon con i dati che sono stati estratti dal sito dell'Ars per ottenere gli Open Data che non sono pubblicati, tutto ciò che fa l'Ars non è pubblicato come Open Data, però una serie di professionisti smanettando, hanno fatto scrapping dal sito dell'Ars e sono riusciti a tirarsi fuori le classi di categoria di ogni singola informazione, cioè, che significa ogni singola informazione? nome deputato, mozione, disegno di legge, riunione commissione, tutte queste categorie sono state estratte attraverso un lavoro appunto di scraping e quindi è stato creato un sito parallelo Open Arts e l'hackathon di giorno 10 qua avrà la funzione di dire bene, visto che vi sfido ad andare al sito dell'Ars e a capire cosa fa l'Ars come attività parlamentare, disegni di legge, primo io sono ignorante, l'obiettivo è quello nell'hackathon avendo anche sviluppatori chi sa riutilizzare i dati strutturati però con il livello 5 delle stelle, la sfida è quella ok, ora creiamo un'app un bot su telegram un web service un sito creiamo un qualcosa che dà la possibilità a quella che io chiamo la zia pina cioè quella che c'è ancora il samsung galaxy s3 e che sa e c'ha solo whatsapp e non sa nulla gli diamo la possibilità a questa persona di capire cosa fanno i deputati dell'ARS e puoi interrogare addirittura si parla di ci lavoreremo ma l'hanno dato come tu potrai chiedere alla a a a a un'applicazione che sarà realizzata cosa fa la il deputato micciche questo negli ultimi sei mesi e ti risponde con una con una con un elenco di attività che ha fatto quel deputato quindi vedete cosa cosa si può fare con i dati si può rendere intellegibile facile da comprendere un qualcosa che per noi oggi all'assia è impossibile da capire cosa fanno tutti questi deputati perché se ci andate è strutturato male il sito le informazioni non sono non sono raggiungibili facilmente deve andare pagina dentro pagina dentro pagina quindi tutto questo allontana i cittadini dalla politica regionale e allora noi abbiamo voluto fare un hackathon proprio al cuore cioè fortunatamente l'assia ci sta ospitando ma forse neanche non hanno capito quello che dobbiamo fare non lo so però l'obiettivo è questo cioè attraverso tutta la cultura che c'è sul mondo dei dati riuscire per ogni cittadino ottenere l'obiettivo di fare capire cosa fa questo Parlamento regionale per noi cittadini che l'abbiamo votato quindi chi vuole venire sa che ci sono questi due giorni e questi sono gli obiettivi che abbiamo da raggiungere andiamo a a un po' di riusi di dati sarebbe bello se lassù dalla regia se c'è qualcuno ma non lo so si potesse cliccare sul primo link quello dove c'è scritto elezioni comunali 2017 questo esatto perché questo è questa persona qua questo tedesco che vive nelle Marche con gli open data che ci sono sul sito del comune di Palermo ha fatto una mappa meravigliosa ah non c'è c'è il wifi no c'è il wifi libero sto ah non prende su vabbè eh consenti no blocca consenti allora facciamo una cosa perché questa la voglio andiamo all'inizio nella pagina c'è ecco qua questo è lo short tour di questa presentazione quindi chi vuole vedere poi queste queste mappe che sono meravigliose qua bit.ly qua sotto in basso bit.ly slash open data trattino linux day 2018 non so se voi la metterete poi sul sito questa presentazione ok quindi ma al limite andate nel sito di Free Circle e ve la scaricate da là comunque sono le mappe meravigliose perché sono delle mappe che contengono all'interno delle infografiche sia sulle elezioni comunali sugli incidenti nella città di Palermo sarebbe stato bello io immaginavo si potesse però questo è uno screenshot delle mappe ok ve lo faccio vedere così vedete qua c'è una mappa che è zoomabile io posso arrivare al singolo edificio e per ogni isolato io posso vedere il trend cioè dentro la mappa ho l'infografica posso vedere il grafichino che mi dice qual è l'andamento degli incidenti nel corso dei vari giorni della settimana e da questo capisco nella geografia della città dove sono le criticità dove per esempio la polizia municipale deve cambiare qualcosa o l'ufficio traffico deve magari fare qualche inversione di direzione mettere qualche semaforo in più insomma i dati il riuso dei dati ci fa capire come dove stiamo sbagliando dove possiamo migliorare e lo fa vedere a tutto il mondo cioè chiunque qua riesce a capire là sopra si capisce chiaramente per ogni per ogni sezione elettorale quanti voti ha preso Orlando quindi immaginate nel primo il politico con questa mappa si va a contare i voti nelle scuole nei quartieri cioè la mappa di sopra al politico gli interessa perché capisce dove ha fallito e capisce dove sta andando forte e quindi magari va a strutturare una campagna elettorale più forte là dove ha preso meno voti ultimamente questo è uno screenshot del portale di Open Data del comune di Palermo abbiamo pubblicato circa erano fino alla settimana scorsa 970 dataset quindi stiamo sfiorando i mille perché abbiamo iniziato cinque anni fa e c'è stato un percorso culturale all'interno supportato da questa comunità di Open Data Sicilia che è stata sempre presente e ci ha dato know-how conoscenza consigli abbiamo tanti dataset però purtroppo ancora non abbiamo il dataset dei parcheggi gli eventi culturali mancano ogni Open Data il traffico il 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 traffico i trasporti pubblici in tempo reale ora li abbiamo non per tutti i bus l'AMAT ha fatto un accordo con MUVIT e ci sono una serie di bus che sono in real time e dal riuso degli Open Data del comune di Palermo voi potete c'è un ci sono delle non mi ricordo come si chiama c'è un sito che ha una forma comunque sembra un'app poi lo faccio mettere nella presentazione non l'ho dimenticato dove voi potete vedere cliccate la linea quindi 101 destinazione stadio stazione centrale poi mettete la fermata dove siete e vi dice tra quanto minuto arriva l'autobus e siccome è real time io l'ho provato spacca il minuto MUVIT è un accordo che hanno fatto no è un'altra perché finalmente i dati sono stati resi pubblici e quindi i dati in real time ci sono le i dati in real time è una frontiera diciamo della famosa città intelligente la smart city e a Palermo sta cominciando con queste piccole cose con appunto i dati in tempo reale dei bus a essere comincia a essere ad assaporare questa cosa di città intelligente perché è bello sapere alla fermata quando arriva l'autobus così so se devo aspettare 20 minuti mi ando a comprare il pane mi ando a comprare se faccio la spesa oppure se passa fra un minuto vabbè mi sto fermo però ci mancano ancora una serie di data set importanti che sono le basi di dati chiave che l'agenzia per l'italia digitale chiede a tutte le pubbliche amministrazioni ai comuni alle regioni di pubblicare perché sono dei data set importanti per la comunità per la società chi si sbatte sugli open data in Italia il team trasformazione digitale non so se ne avete sentito parlare il famoso team di Piacentini Diego Piacentini l'agenzia per l'italia digitale è l'ente che sta sotto la presidenza del consiglio dei ministri e che è deputata a la regia dell'applicazione dell'agenda digitale nelle città nelle regioni siccome quest'agid l'agenzia per l'italia digitale è stata per anni un po' burocraticizzata come tutti gli enti pubblici è stata un po' bloccata allora tre anni fa Renzi ebbe l'idea di nominare un commissario straordinario Diego Piacentini che è un leader di Amazon a Seattle e lui è venuto qua ha lasciato Amazon per due anni e ha fatto ve lo posso garantire perché ci abbiamo lavorato anche noi comune di Palermo lui ha nominato un team di una trentina di persone cioè praticamente ha preso degli smanettoni più bravi che ci sono in Italia gli sviluppatori più bravi e li ha messi a lavorare assieme alle pubbliche amministrazioni ci abbiamo lavorato pure noi pure io li ha messi a lavorare su speed quanti di voi hanno speed? bello almeno un 15-20% oggi il comune di Palermo potete entrare con speed ci ha messi a lavorare su Pago.pa speed è l'identità è il sistema pubblico di identità digitale per eliminare tutte le numerose nomi utenti e password per entrare nei vari siti della pubblica amministrazione l'agenzia per l'italia digitale ha detto ne faccio un sistema unico di autenticazione ci sono dei provider dei fornitori di identità digitale poste Sielt Aruba vi registrate là gratis ottenete il vostro nome utente e password dopo la password arriva il codice nel telefonino il numero di 6 cifre e con quello entrate da 2019 è obbligatorio per tutti gli enti pubblici adottare speed come sistema di accesso ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni quindi con lo stesso nome utente e password entrate sul sito dell'Inps sul sito del comune di Palermo agenzie all'entrata dovunque quindi non dovete avere mille credenziali Pago PA chi di voi sa che cos'è Pago PA uguale percentuale Pago PA è il sistema di pagamenti elettronici alla pubblica amministrazione al comune di Palermo voi oggi potete pagare le multe per violazione del codice della strada la Tari la tassa sull'immondizia entrate con speed e pagate e pagate con Pago PA che poi si aggancia o al vostro conto corrente o alla carta di credito in poche parole non dovete fare FIA alla posta non dovete fare F24 online e la cosa più figa è che quando voi fate il pagamento automaticamente si vanno aggiornare i database del comune dei tributi quindi prima che cosa succedeva io pagavo con l'F24 online questo F24 poi veniva una coppia di questo veniva stampato e messo nel nel tavolo del mio collega che lavora all'Atari il quale ne aveva migliaia sul tavolo quindi dopo mesi che io avevo pagato l'Atari io ancora risultavo nel database del comune che non avevo pagato perché il collega ancora aveva 750 F24 da caricare nel database con questo sistema pago.pa è lui stesso che va a aggiornare il database quindi diciamo è una garanzia dell'avvenuta effettuazione oltre del pagamento dell'aggiornamento del database perché poi tutte le cartelle sattorie partono da là e quindi e poi in ultimo oltre Speed pago.pa il lavoro del team di trasformazione digitale è enorme è stato fatto su ANPR cioè anagrafe nazionale della popolazione residente tutti i comuni che gestiscono anagrafi comunali devono subentrare quindi devono agganciarsi a un bocchetto tramite una sorta di bocchettone a un anagrafe nazionale che significa io sono a Trieste perdo la carta d'entità vado al comune di Trieste e mi faccio la carta d'entità del comune di Palermo perché perché il comune di Trieste sa i miei dati perché tutti i comuni ci scambiamo c'è interoperabilità dei nostri database quindi ci scambiamo i dati c'è un unico repository di tutte le anagrafi dei cittadini quindi in qualsiasi città siete perdete la carta d'entità andate al comune e ve lo uscite tranquillamente in più entro dicembre erogheremo la carta d'entità elettronica che dà l'accesso a dei servizi e poi una volta che voi entrate con Speed sul sito del comune di Palermo potete leggere la vostra PEC a domicilio digitale quindi se vi devono notificare una cosa siccome il comune c'ha voi avete manifestato la volontà al comune di farvi arrivare le notifiche attraverso la PEC non c'è più il messo comunale la notifica avete firmato ma arriva la PEC questo è uno degli obiettivi diciamo dell'ottimizzazione dei servizi pubblici attraverso l'uso delle tecnologie digitali quindi queste tre piattaforme Speed, Pago, PN e PR sono le piattaforme nazionali abilitanti all'erogazione dei servizi locali e noi ci siamo già parleremo su 2 e 3 perché abbiamo lavorato con questi genialoidi diciamo del team trasformazione digitale poi altri che si sbattono su Open Data ho detto Open Data Sicilia il Formez PA che è un ente che fa formazione ai siti della pubblica amministrazione fa un sacco di webinar corsi online MOOC sì ok no io ho finito e poi questi sono alcuni nomi di persone che in Italia hanno fatto la storia del riuso dei dati perché hanno creato bot telegram mappe infografiche e stanno facendo cultura stanno facendo didattica diciamo siamo tutti in rete perché cerchiamo di diffondere e condividere la cultura dei dati in formato aperto spero di non avermi annoiato allora tutt'altro che tutt'altro che annoiati devo dire che è stata una presentazione molto interessante al solito vi lancio un paio di collegamenti con le cose viste poco fa e chiaramente mi vorrete male se io appunto mi collego sempre con i discorsi della blockchain perché sul discorso della carta di identità che si smarrisce qua e viene fatta riprodotta a Firenze a Trieste eccetera e sono i comuni che si fidano tra di loro perché conoscono e fanno riferimento ad un unico database c'è in progetto da parte dell'Inps ha partecipato a questo ad un unico ad un unico repository utilizzando la blockchain sui 27 paesi europei con un'identità unificata a livello europeo in cui le entità che tra di loro interagiscono quindi le varie nazioni non si fidano per certi aspetti l'uno dell'altro e qui di nuovo il modello di fiducia di cui parlavamo poco fa altri aspetti che vengono fuori da questa presentazione e che appunto vi sottolineo perché reputo veramente interessanti sono i collegamenti con le potenzialità dell'utilizzo delle basi di dati o comunque dei dati in formato aperto in particolare il riferimento che facevo poco fa era sulle dislocazioni delle colonnine di ricarica elettrica per le auto è chiaro che qua a Palermo per adesso non ne abbiamo così tante però in un'ottica in cui nei prossimi anni avremo molta più possibilità di poter gestire avere una tecnologia di questo genere sotto i nostri piedi quando ci spostiamo per la città è importante ancora di più di trovare un parcheggio di sapere quale sarà il parcheggio perché mentre nel parcheggio abbiamo una dinamicità rapida nella ricarica delle automobili dobbiamo pensare ad uno stazionamento in un determinato posto per poter fare appunto il pieno di energia quindi io veramente vi ringrazio di essere stati qua di aver visto un pochettino tutte le presentazioni della mattina e vi dico che nel pomeriggio poi non sarò io un pochettino a moderare queste presentazioni e a questo punto rimetto il microfono nelle mani di Marcello e vi auguro buon pranzo e poi ci vedremo comunque più tardi ovviamente sì stavo appunto dicendo questo se ci sono delle domande io ne ho veramente tante però non li posso tenere qua un'ora e mezza al relatore quindi mi rendo a voi la possibilità di fare delle domande con un microfono che funziona perfetto grazie in modo insomma che se una volta che abbiamo sotto mano i relatori per esempio Ciro Spataro per mettere il sale sulla coda ci abbiamo visto veramente tanto una volta che ce l'abbiamo sotto mano spoltiamocelo e proprio con lui voglio parlare quindi interessanti i dati aperti molto interessanti però come si conivano con gli GDPR come li prendiamo questi dati? i dati che sono pubblicati non hanno non afferiscono a privacy di individui però i dati per esempio sulle elezioni c'era la mappa con ma non è che c'è scritto Ciro Spataro per chi ha votato quindi non è che c'è scritto che in quella sezione Orlando ha preso 8.700 voti Ferrandelli ha preso 7.000 voti non puoi arrivare all'identità delle persone però si arriva un po' anche al luogo il GDPR dice che anche indirettamente non devi arrivare come fai arrivare dalla sezione dove ho votato io perché ho votato io un piccolo centro le sezioni sono 10 strade se lui si aspetta 10 voti da quelle zone gli sa tanto che ne prende 5 immagina può immaginare a direttura si può arrivare a direttore avendo il diritto sono no no allora non sono esperto di GDPR ma me lo sono studiato abbastanza bene il concetto è un altro allora porto un esempio sulla sanità che forse è più chiaro allora il GDPR dice che il mio dato il dato che è in rete cioè una 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 radiografia per esempio ok non deve essere identificata con la persona cosa vuol dire vuol dire che quando io posso tramite una tracciatura mia quindi io oggi sono andato a farmi una radiografia ed è lì poi ho fatto una telefonata VoIP a un ginecologo e poi mi sono prenotato una visita chirurgica ad un determinato ospedale ecco queste tre cose messe insieme ok al mio nome però dobbiamo essere coniugate al mio nome è una palese violazione della privacy del nuovo GDPR perché tramite questo incrocio di questi tre dati io capisco che la persona può essere ammalata per esempio chiamo un oncologo ha fatto questo percorso quindi questa persona potrebbe essere ammalata di cancro ok e quindi è un dato assolutamente privato che non deve essere ma facciamo un esempio che può essere violato senza mettere il nome ma un esempio semplice ma se il dato come ha detto lui nell'altro esempio togliamo il nome ma sono 200 persone che sono andate a fare la radiografia x y 200 persone che hanno chiamato Tizio e 200 persone che hanno promontato l'oncologo a quel punto lì io non riesco a capire chi ha chi è ammalato di cancro e chi no è chiaro? quindi quello è il concetto della privacy io non devo riuscire a risalire il dato sensibile della determinata persona nel caso degli open data suoi è impossibile il problema è gli open data come si raccolgono perché ci possono essere dati che in maniera indiretta si arriva anche alla persona che è ammalata di cancro perché se dice in quella zona la zona di campagna c'è solo una strada e lì si è verificato un caso certo non diciamo il nome ma già abbiamo capito certo ci sono quei casi di limite però il GDPR protegge da queste cose che non è precisa non l'ho letto legittimamente ascolta aspetta un attimo legittimamente il GDPR dice anche che io cittadino posso chiedere all'amministrazione la cancellazione del mio dato anche se non collegato al mio nome cioè io posso chiedere alla PA che quel dato la mia radiografia il mio voto tutte quelle cose lì a parte che il voto non è legato alla persona all'inizio alla sorgente non è legato alla persona quindi è impossibile ne piccole gente ho visto raggiungere diciamo al di là del voto quel esempio ma anche questo guarda che l'esempio del voto anche se non c'è il dato digitale anche sulla carta se c'è una sessione e una persona so cosa ha votato cioè è chiaro insomma è chiaro il discorso del GDPR che vuole garantire questi casi anche senza andare direttamente diciamo dal contesto di non riuscire a individuarli il mio problema non era tanto il problema è come arrivate a raccogliere questi dati avendo in mente queste problematiche collaterali ecco il GDPR prima non c'era il problema io me lo sono chiesto visto che basta solo la garanzia della cancellazione del dato sensibile perché io ho l'impressione che i dati vengono raccolti in massa non vi mettete a raccogliere quindi allora i dati ci vuole un po' di criteri i dati possono essere fonte di informazioni forniti dai cittadini ma è chiaro che su quelli cioè se un cittadino va a registrare il figlio che nasce quindi Ciro Spataro va a registrare la figlia Emilia che è nata il giorno giugno non è che quel dato viene pubblicato è un dato che il cittadino va a comunicare al comune quando per esempio nasce il suo figlio quello non è un dato che viene pubblicato però il comune può pubblicare per esempio faccio l'analogia può pubblicare questo è un obiettivo un obiettivo al quale ci sto diciamo mettendo la faccia personalmente per arrivare alla pubblicazione di questo dato cioè per esempio in via Roma quanto persone di sesso maschile o femminile dai 10 ai 20 anni ci sono? o in via libertà o in via questo è un dato che serve molto alle aziende per fare marketing di prossimità cioè le aziende qua ci sviluppano modelli di business e ci fanno economia ok ma là non è che sta dicendo che Ciro Spataro abita in via libertà numero 39 Ciro Spataro è in mezzo a 379 persone dai 30 ai 60 anni di via libertà ma come fai da da quei 370 arrivare a Ciro Spataro abbiamo un'altra domanda grazie Oscar non essere no no anzi da un lato l'intervento precedente denota comunque quanto ci sia tanta necessità di informazione sulla normativa del GDPR ancora è una cosa come si dice fresca è una cosa che ancora deve essere calata anche all'interno delle pubbliche amministrazioni la mia domanda è più riferita all'import del GDPR dovrebbe tecnicamente riorganizzare tutta una serie di processi ecco forse la cosa che più mi interessa sapere è le amministrazioni in questo caso siamo parlando di Palermo ma il discorso è molto più ampio quindi non voglio prendere Palermo anzi Palermo ha già avviato un percorso merita degli step ulteriori di miglioramento quello sì l'importanza è capire ad oggi le pubbliche amministrazioni se stanno iniziando quelle analisi dei rischi quelle analisi dei processi che sono a monte della valutazione del GDPR all'interno della pubblica amministrazione sono quelle le cose che contano perché poi c'è anche un aspetto di cyber sicurezza all'interno della pubblica amministrazione quindi quello che conta sapere oggi è se il Comune di Palermo al di là della nomina del responsabile nel momento in cui si attiva la famosa violazione del rischio il data breach scusate l'inglese cosa succede? l'amministrazione è organizzata? il cittadino ha un luogo ha una mail ha un responsabile ha una procedura a cui si può riferire o troverà la giungla? punto no non è organizzata ma come non sono organizzate tante pubbliche amministrazioni perché con la con l'ambito della privacy dell'individuo fino ad ora non è che ci hanno lavorato in maniera ora abbiamo tutti l'affanno il timore lo scanto del GDPR che ben vengano tutte queste sensazioni scanto timore perché ti fanno un po' diciamo organizzare noi oggi ho un'informazione che me ne approfitto per darla il Comune di Palermo è ufficiario come tutte le 14 città metropolitane d'Italia è beneficiario di fondi di una programmazione che si chiama c'è uno che vuole fare la sotto una domanda è PONMETRO programma operativo nazionale città metropolitane ci sono vari assi l'asse 1 è agenda digitale 16 milioni di euro da spendere entro il dicembre 2020 noi stiamo assieme alla nostra società per i servizi informatici la SISP SPA stiamo costruendo sette piattaforme informatiche piattaforma lavoro informazione piattaforma tributi piattaforma ambiente territorio piattaforma cultura e tempo libero piattaforma edilizia catasto non mi ricordo altre due sono delle piattaforme di nuova architettura che vanno ad assolvere due compiti fondamentali gestire processi amministrativi interni che fino ad oggi si gestivano con carte penna e libroni e carpette armadietti metallici andarli a gestire con un'interfaccia cloud server security ok quindi si passa da tutta una serie di cose fisici fisiche che si possono toccare a cose immateriali cloud tutto questo voi non pensate che abbia un impatto su tutta la popolazione comunale che lavora al comune io sono il più giovane ho 51 anni e mi sento e mi sento diciamo mi reputo smanettone uno di quelli che insomma usa tutto ma ci sono colleghi alle postazioni decentrate dove si emette la carta d'entità che col mouse ancora non hanno tanto dimessichezza quindi capite bene che non è che la tecnologia da sola arriva a risolvere i problemi cioè andiamo sul cloud la sicurezza l'interfaccia è online quindi io mi posso collegare anche da casa mia e posso fare il lavoro a casa mia perché non è il software non installato sulla macchina ma è sul cloud non è che tutto questo da solo basta a rispondere a quelle domande lui ha detto una cosa che è sacrosanta lui lavora con noi lui è nella community open data Sicilia quindi ha fatto una domanda provocatoria affinché io parlassi di questa cosa io lo ringrazio la cosa fondamentale che ha detto lui è l'analisi dei processi cioè tu singolo dipendente o singolo dirigente mi devi descrivere analiticamente dettagliatamente cosa fai nel tuo lavoro come lo fai tutti gli step perché se la software house se lo sviluppatore del software deve mettere tutto quello che tu fai oggi con penna carta bollo timbro carpette e armadietto metallico lo devi passare al cloud è tutto gestito in digitale se io software house non so cosa fai tu come lavoro ma che ci metto nel campo ma che cosa sviluppo il problema nelle pubbliche amministrazioni è questo che io so cosa faccio ma se qualcuno mi dice me lo descrivi che io devo fare un software che non lo so scrivere questo è il problema che non sanno fare analisi dei processi e quindi che cosa fa che cosa avviene nella realtà che lo sviluppatore vabbè gli fa qualche domanda e poi allora man mano che lui va costruendo il software il dipendente pubblico gli dice eh ma io però questo così non lo posso fare e lui ha giù ma io questo è lui ha giù cioè si va diciamo si mettono assieme dopo un anno e mezzo due anni esce il software che si può usare che poi quando lo devono usare 500 mille persone nel comune tu senti il 90% dei feedback è una cacata non serve a niente cioè ok ma chi l'ha fatto cioè questo è il problema perché nelle pubbliche amministrazioni ci dovrebbero essere più smanettoni che stanno là a capire come come a stare accanto al dipendente comunale vede cosa fa e automaticamente tutto viene traslato in digitale mancano queste figure ora il CAD impone la figura l'articolo 17 del codice all'amministrazione digitale impone nell'ultima revisione la figura del responsabile della transizione al digitale noi l'abbiamo nominato che è il mio dirigente diciamo il lavoro me lo portavo avanti io e lui è pure comandante della polizia municipale il dirigente del servizio innovazione tecnologica quindi ha mille rogne da gestirsi con la polizia municipale e ci stiamo tentando però il comune è fatto ad 8 mila dipendenti non si può riuscire in sei mesi cioè è un esercito è un paese come può essere misilmeriti tutti che lavorano nel comune non si può pensare in sei mesi in un anno di essere perché abbiamo i 16 milioni del pommetro per sette piattaforme digitali quindi abbiamo soldi a gogo per comprare hardware software cloud non si può pensare che è solo un problema di soldi è un problema di cultura digitale cultura digitale digitale